Allora, a tutti gli spettatori di Campania Felix TV, io, Claudio Insegno, vi mando un augurio di un felice anno, un anno che possa essere all'insegna di un'apertura totale, come in questo momento mi trovo io, un'apertura totale per la nostra arte che si è bloccata, giustamente e ingiustamente. Un augurio enorme a tutti quanti, a tutti quelli che collaborano in questa TV e a tutti quelli che la guardano, quindi a tutti, è esteso veramente a tutti quanti, un augurio di un felicissimo anno nuovo, sperando che l'arte non si fermi, ma non credo, credo che continueremo ancora per molto tempo a dare fastidio a tante persone. Nel frattempo il mio cane si sta divertendo, non so se vi interessa vederlo, ma non credo. Auguri, auguri a tutti quanti, buon anno. Ciao a tutti da Moreno del Signore, innanzitutto il mio augurio per il prossimo anno, per questo 2021 che viene, che ci porti la consapevolezza dovuta anche agli apprendimenti talvolta faticosi e dolorosi di questo 2020 e poi fate le cose belle, fate le cose che vi piacciono, cercate di stare bene, abbiate cura di voi stessi, di quelli che amate e di quelli che avete intorno, perché in fondo se ci hanno messo tutti su questo pianeta il senso è quello dell'incontrarci e del poter essere felici insieme. Ancora un caro saluto a Luca Lupoli e Olga De Maio e a tutti gli ascoltatori di Noi per Napoli Show e Campania Felix TV. Buon 2021. Lo che voglio fare a tutti quanti noi per il 2021 è di non indossare più gli occhiali dei difetti, dei limiti, dei problemi che sono gli occhiali con i quali solitamente guardiamo le persone attorno a noi, quindi buttiamo via questi occhiali e mettiamoci gli occhiali della positività, delle risorse, dei pregi, delle opportunità, proviamo, sforziamoci tutti quanti di vedere nei nostri vicini e nelle persone che stanno vicino a noi, accanto a noi, il bello, ciò che di bello hanno, ciò che di positivo hanno, ciò che li fa unici e irripetibili. Auguri quindi a tutti quanti noi di essere sempre più bravi a vedere quanto c'è di bello e di positivo nelle persone con cui interagiamo, smettiamola, in primis il sottoscritto, ad avere questo approccio da caimani, da squali, competitivi, arrabbiati, scontenti, livorosi. Auguri per un bellissimo 2021. Auguri dal Festival Barocco Napoletano per un 2021 pieno di musica, speriamo ovviamente dal vivo per ritrovare i nostri meravigliosi musicisti e tutta la tradizione della scuola musicale napoletana. Auguri a tutti e speriamo di vederci presto. Da Massimiliano Cerrito, presidente e fondatore del Festival Barocco Napoletano. A presto, auguri. Cari amici di Campania Felix TV e di Noi per Napoli Show, sono Davide La Bollita e mi faceva piacere farvi gli auguri per un felicissimo anno nuovo, che sia sicuramente meglio di quest'ultimo ma ci vorrà ben poco, e davvero augurarvi ogni bene per le vostre iniziative e per il vostro futuro. Un abbraccio grandissimo a tutti voi, a voi dello studio, ad Olga, a Luca, veramente con tanto tanto affetto. A presto vederci. Volevo augurare a tutti i partecipanti e ai conduttori di Noi per Napoli Show un augurio di un felice anno nuovo, pieno di speranza e serenità e soprattutto salute. Auguri ancora. 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 Grazie a tutti